Ciao a tutti! Oggi per Secret London vi porto sul grattacielo Shard. Sono già in cima, vi faccio fare un giretto con me. La vista è meravigliosa anche perché oggi è una giornata abbastanza bella. Grazie. 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 il giro il giro qua sono nel bagno dello Shard e anche nel bagno si può godere della vista perché c'è la finestra la finestrona panoramica ciao amici quante cose vi faccio vedere siete contenti? grazie 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 è piaciuta la visita? spero di sì ci vediamo al prossimo video lasciatemi un like scrivetemi un commento e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto mi raccomando ciao 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 ciao